Rivolgo un cordiale benvenuto ai peregrini di lingua italiana. In particolare saluti fedeli di Parete e di Battipaglia, auspicando che con l'impegno di tutti cresca il fervore religioso delle rispettive comunità parrocchiali. La statua di Santa Teresa del Bambin Gesù, che è nella parrocchia del Lione Taverna a Battipaglia, è stata benedetta da Papa Francesco. Mercoledì scorso i fedeli battipagliesi guidati dal parroco Padre Luigi Piccolo hanno partecipato all'udienza del Papa e domani nel Lione Taverna inizieranno i consueti festeggiamenti di Santa Teresa del Bambin Gesù. Una pagina di storia che si è costruita per la nostra parrocchia, quindi per il quartiere, ma per tutta la città. Mi piace sottolineare che il Papa, quando ha salutato la nostra parrocchia, ha parlato di battipaglie. Questo è molto molto bello. È quasi un veicolo Santa Teresa, un veicolo che ha recato la carezza di Papa Francesco su questa nostra meravigliosa città. E questa cornice storica ci dà brivido. La storia è passata di qui. 60 anni fa gli stimmatini portavano nel cuore di Taverna delle Rose la Santa delle Rose, Santa Teresa del Bambino Gesù, la Santa della Piccola Via. E dopo 60 anni la parrocchia si riappropria della sua identità, della storia. La storia locale è fondamentale. Sono i piccoli passi che costruiscono i grandi passi. E così riappropria di questa storia, ancora una volta, ribadendo la devozione con questo passo meraviglioso. L'udienza generale, il 28 settembre, nella quale il Santo Padre, Papa Francesco, ha accolto la statua di Santa Teresa, ha accolto i pellegrini di Battipaglia. Noi abbiamo recato anche una rosa d'argento, bellissima, che veramente poi è stato il segno, il significato di un percorso compiuto prima in preparazione a questo momento. Il Papa ha benedetto la statua, ha benedetto la rosa, ha benedetto i pellegrini, ha benedetto la comunità. E io ho chiesto al Papa questo. Gli ho parlato dei giovani e gli ho parlato dei sofferenti della città. E gli ho chiesto che possano sbocciare come rose le speranze dei giovani, le sofferenze di chi è in difficoltà. E il Papa ha accolto e ci ha rassicurato con la sua preghiera, la sua presenza, insomma, il cuore immenso di Papa Francesco. Ecco, siete stati anche in Francia con la statua di Santa Teresa. Sì, è stato il passo che ha preceduto questo momento all'Isier, dove la Santa è partita per un itinerario di storie e di vita, la sua nascita religiosa, potremmo dire, e abbiamo portato proprio questa stessa statua, che è stata a San Pietro a Roma, questa stessa statua del Sessantesimo, lì, nella sua casa, nella basilica dove la Santa è veneratissima, sui suoi passi, per le sue strade, immaginarsi vedere quella statua in processione, in Francia, in quel posto. Beh, è storia, storia. Adesso si prepara il momento, direi, attesissimo della festa, proprio questa sera, e avremo per la mezzanotte una messa meravigliosa, una celebrazione meravigliosa, nel senso profondo del termine, cioè pensata per suscitare la meraviglia della fede, proprio la meraviglia del credo. Ci saranno i petali di rose, la Santa delle rose, e sarà un momento veramente bello, a mezzanotte per aprire il giorno della festa, e poi, domani, un grande appuntamento. Alle 19.30, in parrocchia, la presenza del grande Don Maurizio Patriciello, che con tutte le sue forze si batte per difendere la giustizia e la verità nella terra dei fuochi. Dico sempre alla gente che Don Maurizio viene a dirci cosa è giusto e cosa no. E sarà un momento forte. È un amico di sempre, Don Maurizio, e verrà per lottare con noi per la giustizia. E poi, domenica, la processione, la messa, gli appuntamenti devozionali, anche un bel cartello per la festa civile. Ecco, veramente abbiamo pensato ad ogni cosa. C'è Fimiano, l'artista così noto, ecco, e poi tanti amici, una bella banda musicale. Insomma, è festa, è festa. Grazie. 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 Grazie.